Bed and breakfast ti fa diciamo 110.000 euro. Togliamo spese di gestione, pulizie, tasi, vino. Ma che veramente devo pagare tassi? Sono sempre pieni di turisti questi. Ti posso avere la fattura? No, noi accettiamo solo donazioni. Io me la invento una religione. Mi faccio pagare dai turisti con la donazione minima e senza tassi. Prendiamo un po' qua, un po' là, facciamo un mix di gusto magari ma un mix. C'è il solo Dio. Uno e trino. Facciamo che Dio è quadruplo. Tu sei il tuo Dio. Devo chiamarla maestra. Giro di sprizzi per tutti. Noi siamo nostro Dio. Ci dobbiamo concentrare per il prossimo obiettivo. Lotto per mille. Io nismo, eh? Cioè io da io e nismo da... Che ci porti altri due sprizzi per favore? Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!